Esonerato mister Fabrizio Perrotti dopo due giornate di campionato a secco di punti e la precedente sconfitta di Barletta in Coppa Italia, la società del presidente Luigi Rega riconsegna le chiavi della guida tecnica a Corrado Urbano, protagonista insieme alla squadra di Piedimonte, di due ottime stagioni in Serie D. Domani l'FC Matese sarà di scena allo stadio Mariani Pavone di Pineto, in provincia di Teramo, dove tenterà di conquistare i primi punti stagionali ed archiviare definitivamente le due battute d'arresto, contro Notaresco Prima e Team Nuova Florida domenica scorsa, quando al Ferrante di Piedimonte la formazione romana si è imposta per 2-1. Un risultato che lascia l'amaro in bocca, aggiunto dopo una buona prova della compagine verde oro e dinanzi al nutrito pubblico di casa. È proprio da qui che bisogna ripartire per la trasferta di domani ed il proseguo di un campionato sicuramente competitivo. Mister Urbano sa come reindirizzare i propri ragazzi, un organico rinnovato ma unito dall'obiettivo comune di fare il risultato e risalire la graduatoria. Tra i nuovi arrivi il difensore classe 2000 Antonio Lagamba, ex Gelbison, città Sant'Agata, Corigliano e Marina di Ragusa, mentre come anticipato nel TG Sport di ieri salutano Piedimonte, Liccardi, ingaggiato dal Savoia e Calvanese, diretto a Molfetta. Dal canto suo il Pineto di mister Daniele Amaolo, oltre ad aver ben figurato nella competizione tricolore, imponendosi sul nutaresco per 1-0, in campionato ha conquistato una vittoria, quella contro il Termoli, ma ha impattato di misura contro il Fano nell'ultimo turno. Cinque reti all'attivo, cinque gol subiti. Questi dati dimostrano che i Terramani, oltre ad essere una compagine rodata della categoria, sanno come concretizzare, ma possono anche essere colti di sorpresa. Certamente domani punteranno sul fattore casa per riscattare la sconfitta in terra marchigiana, ma l'FC Matese scenderà sul rettangolo di gioco con le giuste motivazioni per giocarsela a viso aperto. Quanto al probabile 11 titolare provato nei pochi giorni a disposizione, il tecnico schiererà. Un 4-3-3 con Palombo a difendere i pali, linea difensiva affidata a Sisca e Setola sulle fasce e ai centrali Nocerino e La Gamba. In mediana Sacco, Ricamato e Ricciardi. In attacco Salatino, che ha scontato i due turni di squalifica, affiancato da Sorrentino e ancora in forse Vittorio Esposito. Con calcio d'inizio alle ore 15, al Mariani Pavone a dirigere gli avvincenti 90 minuti tra Pineto ed FC Matese, Giuseppe Lascaro di Matera, coadiuvato da Romualdo Piedipalumbo ed Alessio Vitiello, entrambi di Torre Annunziata.